Lettura, Vangelo e Commento E non abbia abbandonato il diritto del suo Dio Mi chiedono giudizi giusti Bramano la vicinanza di Dio Perché digiunare, se tu non lo vedi Mortificarci, se tu non lo sai Ecco, nel giorno del vostro digiuno Curate i vostri affari Angariate tutti i vostri operai Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi E colpendo con pugni iniqui Non digiunate più come fate oggi Così da fare udire in alto il vostro chiasso È forse come questo il digiuno che bramo Il giorno in cui l'uomo si mortifica Piegare come un giunco il proprio capo Usare sacco e cenere per letto Forse questo vorresti chiamare digiuno E giorno gradito al Signore Non è piuttosto questo il digiuno che voglio Sciogliere le catene inique Togliere i legami del gioco Rimandare liberi gli oppressi E spezzare ogni gioco Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato Nell'introdurre in casa i miseri senza tetto Nel vestire uno che vedi nudo Senza trascurare i tuoi parenti Allora la tua luce sorgerà come l'aurora La tua ferita si rimarginerà presto Davanti a te camminerà la tua giustizia La gloria del Signore ti seguirà Allora invocherai E il Signore ti risponderà Implorerai aiuto Ed Egli dirà Eccomi Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni E gli dissero Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte Mentre i tuoi discepoli non digiunano E Gesù disse loro Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto Finché lo sposo è con loro Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto E allora digiuneranno Parola del Signore Lode a te o Cristo Commento al Vangelo La salvezza il Signore la dà dentro un popolo Nella pertenenza a un popolo Qual è il digiuno che vuole il Signore? Digiuno che si preoccupa della vita del fratello Che non si vergogna Lo dice Isaia stesso Che non si vergogna della carne del fratello La nostra perfezione La nostra santità Va avanti con il nostro popolo Nel quale noi siamo eletti e inseriti Il nostro atto di santità più grande È proprio nella carne del fratello E nella carne di Gesù Cristo E andare a dividere il pane con l'affamato A curare gli ammalati Gli anziani Quelli che non possono darci niente In contraccambio Quello è non vergognarsi della carne Quando io do una limosina Guardo agli occhi Il mio fratello e la mia sorella Quando io so che una persona è ammalata Vado a trovarla La saluto con tenerezza C'è un segno che forse ci aiuterà Una domanda So carezzare agli ammalati Agli anziani Ai bambini O ho perso il senso della carezza Questi ipocriti non sapevano carezzare Se ne erano dimenticati Non vergognarsi della carne del nostro fratello E la nostra carne Come noi facciamo con questo fratello Questa sorella Saremo giudicati Se questo video ti è stato utile Con poco puoi sostenere questo canale Scopri come nella descrizione E ricorda che insieme Possiamo diffondere fede e speranza Con gratitudine Daniele